Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e in questa lezione presenterò la filosofia di Hobbes. Si tratta di una presentazione introduttiva in cui mi soffermerò sulla sua concezione della ragione come calcolo e sull'approccio materialistico che caratterizza tutta la sua filosofia. Questo signore è Hobbes, che vissi a lungo, morì a 91 anni, e la sua attività, la sua ricerca e le sue pubblicazioni attraversarono un periodo cruciale della storia europea e inglese tra la fine del XVI secolo e quasi tutto il XVII secolo. Bene, se Cartesio è spiritualista, Hobbes è materialista, se Cartesio ha una concezione della razionalità umana come lumen naturalis, connaturato alla stessa quindi costituzione dell'uomo, e vede la ragione come un organo infallibile e onnipotente, Hobbes ha una visione più strumentale della ragione, è una tecnica di calcolo che serve per prevedere ciò che accadrà e soddisfare i bisogni umani, è strettamente connessa inoltre al linguaggio. Inoltre, mentre Cartesio ritiene che la ragione operi a partire da delle idee innate, per Hobbes la mente umana acquisisce i concetti su cui poi la ragione esercita i suoi calcoli dall'esperienza, si tratta di generalizzazione empirica. Bene, detto questo, qual è il progetto filosofico di Hobbes? Egli intende, ispirandosi come tutti gli autori di questo periodo al modello, al paradigma vero e proprio della geometria, realizzare un'opera filosofica che sia sistematica, e che egli suddivide in tre parti a cui corrispondono tre diverse opere, il De Corpo, il De Omine e il De Cive, che appunto si occupano dei vari rami della filosofia, la fisica, l'antropologia e la politica. Qual è l'obiettivo cui mira Hobbes? Bene, è un obiettivo politico. Si tratta di cercare di comprendere come sia possibile fondare una comunità sociale che sia ordinata e che sia pacifica. E però, questa operazione deve essere eseguita ricorrendo soltanto alla razionalità umana. Quindi una filosofia razionale che esclude ogni altro tipo di approccio fondativo, come quello che si basa sulla rivelazione da parte di un'identità sovranaturale, come capita nella religione, o come quello che si basa sulla tradizione, quindi su un principium autoritatis, sulla autorità della tradizione, sulla indiscutibilità di questa autorità. Questa filosofia che deve abbracciare tutti i rami dello scibile umano, deve essere una filosofia razionale. E quindi la prima cosa che dovremmo cercare di chiarire è che cosa sia la ragione per Hobbes, quale sia la natura della conoscenza. Come abbiamo detto, il suo modello è la geometria Euclidea. La geometria Euclidea è l'incarnazione stessa della scientificità. Per essere rigorosa e deduttiva, una scienza deve modellarsi sulla geometria. E questo caratterizza molti dei padri della scienza, da Galileo allo stesso Cartesio. Inoltre, proprio per questo motivo, la filosofia e la conoscenza umana devono basarsi su nozioni semplici e certe, come semplici e certi sono gli assiomi da cui parte la geometria. E nel suo approccio materialistico, questi assiomi sono dati dal corpo e dal movimento. Quindi materialismo, i corpi e movimento determinano quello che è la tipica componente meccanicista determinista di Hobbes. Occorre eliminare dalla nostra considerazione della realtà tutti gli aspetti qualitativi e finalistici che erano proprio per esempio della metafisica aristotelica, della visione religiosa cristiana del mondo e ricondurre tutto a quelle che sono le qualità primarie, quelle qualità oggettive, di cui già Galileo aveva parlato, che verranno poi ugualmente sottolineate da Locke, e al movimento. Quindi corpo e movimento fondano il determinismo. Ogni cosa è determinata da quelle che sono la posizione dei corpi, la loro velocità, il loro movimento nello spazio, eccetera. Bene, detto questo, che cos'è la ragione? Per Hobbes la ragione è la capacità che noi abbiamo di prevedere ciò che accadrà e quindi di provvedere al soddisfacimento dei nostri bisogni. E' quindi un organo che è finalizzato alla sopravvivenza fondamentalmente e tramite il quale noi possiamo progettare la nostra esistenza. Infatti, grazie alla ragione, noi possiamo apprendere dall'esperienza passata e proiettare ciò che abbiamo appreso al futuro prevedendo appunto il futuro. La ragione quindi ha lo scopo di selezionare quelli che sono i mezzi che sono necessari a conseguire un determinato fine, in questo senso è una ragione strumentale, ma il fine è appunto la sopravvivenza. Il linguaggio ha un ruolo fondamentale nel funzionamento della ragione. La ragione stessa si incarna nel linguaggio, altro non è che il linguaggio. Ma che cos'è il linguaggio? Il linguaggio è un sistema di segni. Questi segni hanno una attura convenzionale, nel senso che il rapporto tra il segno linguistico e le cose cui il segno linguistico rimanda è mediato dai concetti. Quindi, in lingue diverse, non so, cane, dog, cane, shen, sono suoni diversi, segni fonetici diversi, che rimandano alla stessa cosa, ma rimandano alla stessa cosa solo perché, pur nella loro differenza fonetica, fanno riferimento a un concetto che è lo stesso concetto. Il concetto, in questo caso, di cane. Ma che cos'è il concetto di cane? Bene, non sono le idee eterne platoniche, universali, mutabili, che trascendono la realtà empirica, ma sono generalizzazioni che noi conduciamo a partire dall'esperienza, che quindi rappresentano una sintesi di quelle proprietà che noi attribuiamo a determinati oggetti e grazie ai quali costruiamo degli insiemi. Quindi l'insieme dei cani, per così dire, sarà dato da tutte quelle proprietà che noi riconosciamo come proprie dei cani. Ecco che cos'è quindi il concetto che opera questa importante mediazione tra il segno e la cosa. Si capisce anche la prospettiva empirista, in questo caso di Hobbes, dato che, appunto, non esistono idee innate, eterne, universali, che sono, come dire, una dotazione naturale del nostro intelletto, ma tutte le idee derivano, appunto, dall'esperienza. Bene, è chiarito quindi il rapporto tra segni e cose, è chiarito il ruolo fondamentale dei concetti cui segni fanno riferimento, in che senso la ragione è calcolo linguistico. Per comprenderlo, dobbiamo cominciare a capire che cosa sia il ragionamento. Ora, il ragionamento è un calcolo, abbiamo detto, e quindi il ragionamento, scomposto in quella che è la sua dimensione minimale, altro non è che una serie di operazioni di somma e sottrazione che noi esercitiamo attraverso i giudizi. Cerchiamo quindi di chiarire il giudizio, che non è ancora un ragionamento, è una connessione tra un soggetto e un predicato. Per esempio, quando noi affermiamo questa cosa qui a un uomo, stiamo dicendo uomo uguale corpo più animato più razionale. Stiamo, cioè, in questo giudizio, asserendo un'uguaglianza tra uomo è la somma di alcuni concetti. Quindi, come si vede, un giudizio è già di per sé un calcolo, una somma, o può essere anche una sottrazione. Per esempio, che cos'è un animale? Rispetto a un uomo, un animale è corpo più animato meno razionale. Quindi, come si vede, somma e sottrazione. Più giudizi messi insieme, come nella prospettiva logica tradizionale che risale ad Aristotele, formano un logoi, un logo, scuscula, un ragionamento. In questo caso, però, data la natura strumentale della ragione, dato il fatto che essa si riduce a un calcolo linguistico, Hobbes ricorre al silogismo ipotetico, che viene a formularsi in tal modo. Se qualcosa è uomo è anche animale, se qualcosa è animale è anche corpo. Dunque, se qualcosa è uomo, allora è anche corpo. Questo è un silogismo che rispetta tutte le caratteristiche del silogismo aristotelico e il termine medio ci permette, animale, ci permette praticamente di inferire che se corpo è compreso in uomo, se corpo, chiedo scusa, se animale è compreso in uomo, e corpo è compreso in animale, allora, indirettamente, grazie a questa relazione di inclusione, corpo deve essere incluso in animale. Prima di procedere in questa breve introduzione e presentazione della razionalità obesiana, soffermiamoci a riflettere su questo fatto. L'uomo, il fatto che l'uomo sia corpo, difende dal fatto che l'uomo è animale, cioè la causa del fatto che l'uomo è corpo e che l'uomo è animale. Quindi, attraverso il ragionamento, noi veniamo a conoscere la causa delle cose ed è questo appunto l'obiettivo della conoscenza scientifica. La conoscenza scientifica è il tentativo di dimostrare quella che è, di dimostrare quelle che sono le cause delle cose, quindi scoprire e dimostrare le cause delle cose, degli eventi e così via. Il discorso scientifico equivale quindi alla dimostrazione, la dimostrazione è sempre un'imputazione di causalità, cioè tende sempre a esplicitare quello che è un rapporto di causa-effetto. Da questo punto di vista Hobbes è abbastanza fedele alla tradizionale concezione anche aristoterica, per cui conoscenza è sempre conoscenza delle cause. Quindi abbiamo visto come il giudizio è un calcolo e attraverso il ragionamento noi operiamo un calcolo più complesso che ci permette di individuare la causa di un determinato fenomeno, in questo caso il motivo per cui l'uomo è un corpo e il ragionamento consiste nella dimostrazione di ciò, di questa connessione di causa ed effetto. Quindi Hobbes si sofferma sul carattere della dimostrazione e anche qui seguendo la tradizione Hobbes sottolinea come esistano due differenti procedure dimostrative una che per esempio quella tipica della geometria è la dimostrazione a priori che procede attraverso il ragionamento deduttivo in questo caso procede dalla conoscenza della causa alla deduzione di tutti gli effetti che sono propri di questa causa e in questo modo giunge a conoscenze che sono universali e necessarie. Quindi noi potremo avere una conoscenza certa di tutti quei fenomeni che possiamo derivare da cause che ovviamente conosciamo sul modello della geometria. La conoscenza di queste cause è la premessa da cui deriviamo le nostre conclusioni. Bene, gli esseri umani quindi possono avere una conoscenza dimostrativa certa di tutti quei fenomeni di cui conoscono a priori le cause ecco quali sono gli ambiti quindi della conoscenza dimostrativa necessaria certa sono però le scienze matematiche come l'alitmetica e la geometria per quale motivo perché è l'uomo a creare le figure è l'uomo a creare i numeri o per meglio dire è attraverso la costruzione di determinati assiomi come quelli della geometria euclidea è l'uomo stesso che pone questi assiomi e perciò possiamo conoscere a priori le cause perché noi stessi abbiamo prodotto questi assiomi stessa cosa però secondo Hobbes capita e questo può sembrare sorprendente dal nostro punto di vista contemporaneo capita per l'etica e la politica sorprendente perché normalmente si fa una distinzione tra scienze esatte la ritmetica la geometria scienze della natura la fisica che spesso si accomunano insieme anche se non sono proprio la stessa cosa è scienze sociali o scienze dello spirito che invece avrebbero caratteristiche completamente differenti perché farebbero riferimento al mondo umano mentre per Hobbes non stanno così le cose anche in campo etico il comportamento umano anche in campo politico la convivenza quindi la vita associata è possibile una conoscenza a priori per il semplice fatto che è l'uomo stesso a creare le regole per esempio della convivenza civile che sono leggi convenzionali ovviamente non naturali ma che sono comunque create dall'uomo quindi l'uomo è causa di queste regole di questi valori di queste norme sono gli uomini a determinare cosa sia giusto e ingiusto quindi proprio il fatto che non esistano valori assoluti e trascendenti ma tutti i valori siano frutto della creazione umana dell'attività umana del sapere umano fa sì che noi possiamo conoscere a priori le cause per esempio di una legislazione politica e quindi possiamo applicare la conoscenza dimostrativa in questo ambito bene oltre alla conoscenza dimostrativa a priori esiste la conoscenza dimostrativa a posteriori prima di tutto bisogna chiarire la differenza quando Hobbes parla di conoscenza dimostrativa a priori non fa certo riferimento a idee innate di cui la nostra mente la nostra ragione sarebbe portatrice si va di bene ma intende invece sottolineare come determinati abiti dell'esperienza umana come quello della politica della geometria dell'aritmetica siano frutto dell'azione umana siano prodotti dall'uomo bene chiarito questo quindi torniamo alla nostra conoscenza dimostrativa a posteriori si tratta del tradizionale ragionamento induttivo come la conoscenza a priori dimostrativa a priori e il ragionamento deduttivo e quindi procede dal particolare l'effetto al generale la causa e riguarda le cose naturali ora le cose naturali non sono prodotte dall'uomo non è l'uomo causa delle cose naturali ma è Dio Hobbes crede nell'esistenza di Dio seppur un Dio dotato di corporeità quindi in questo caso noi non possiamo conoscere a priori la causa dei fenomeni naturali la causa dei fenomeni naturali è nota a priori solo a Dio questo significa che non possiamo procedendo dal fenomeno quindi dall'effetto alla sua causa giungere a conoscenze certe e applicare la procedura della dimostrazione a priori ma soltanto giungere a conoscenze probabili questo per un motivo abbastanza ovvio da un determinato effetto possiamo risalire a cause diverse ovvero uno stesso effetto può essere stato prodotto che è il calore di un metallo da tante cause differenti non possiamo essere certi e quando diciamo certi intendiamo il 100% non il 99,99 non possiamo essere certi di quale sia la causa in pratica il rapporto tra l'effetto e la causa non è univoco è plurivoco lo stesso effetto può dipendere da più cause naturalmente c'è poi il solito problema dell'induzione per cui noi non possiamo dimostrare nessuna giudizio universale della forma tutti gli x sono y o tutti gli x hanno la proprietà p per il fatto che non possiamo compiere un numero infinito di osservazioni di sperimentazioni come richiederebbe il quantificatore tutti che è un quantificatore universale che riguarda un numero di casi enorme se non infinito bene la conclusione quindi qual è che il vero equivale al fatto non solo uscire per causa cioè noi conosciamo solo attraverso le cause ma noi conosciamo con assoluta certezza e quindi arriviamo alla verità dato che la verità è la conoscenza certa al 100% soltanto quei fenomeni possiamo conoscere con verità di cui noi stessi siamo la causa perché conoscendo le cause possiamo dedurre con certezza gli effetti ho detto in altro modo è possibile conoscere con certezza solo ciò che si fa permessa questa comune a tanti altri filosofi basta ricordare l'italiano napoletano Giovanni Battista Vico ecco chiarito adesso questo schema il sapere è la conoscenza delle cause che producono i fenomeni scena per causas e si articola in dimostrazione a priori deduttiva che è un sapere certo e che comprende tutti quegli ambiti dell'esperienza umana in cui è l'uomo la causa che produce i fenomeni come la matematica l'etica e la politica è in un sapere induttivo e quindi solo probabile che si caratterizza per la dimostrazione a posteriori e che procede dagli effetti alle cause e che riguarda la fisica quindi la fisica rientra nell'ambito delle conoscenze solo probabili la politica e l'etica nell'ambito delle conoscenze scientifiche bene possiamo concludere questa trattazione introduttiva della filosofia di Hobbes che mirava proprio a cercare di capire che cosa per Hobbes è scienza che cosa è conoscenza e soprattutto a esplicitare la sua concezione della ragione come calcolo linguistico che fonda la conoscenza in quanto dimostrazione a priori o a posteriori grazie e buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti